Condizione non molto spettacolare Non si drizza ma non abbiamo E' buona vera che parte si fornano E' buona parte i figieri dobbiamo andare di lì la città Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo superato i 1800 metri Adesso vediamo di andare un po' qui intorno Il panorama oggi è bello Ma c'è foschia sulla pianura In versione termica Noi dovremmo esserci più o meno la stessa quota Noi ci siamo arrivati a 60 km orari 8 di favore Grazie a tutti 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 Madonna mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti